Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo episodio della vanilla Alle mie spalle come potete vedere c'è l'albero che abbiamo fatto negli scorsi tre episodi che è davvero imponente Se volete vedere come l'ho fatto beh andate a vedere i tre video precedenti Oggi però ragazzi volevo andare a fare un'esplorazione perché mi manca un tipo di legno Che ce ne siamo accorti, mi sa troppo tardi anche Ovvero il legno di mangrove, non so come si chiama ma mi sembra così Che sarebbe un legno molto rosso da cambiare magari con questi cartelli e anche con questi qua dentro Ho visto ed è abbastanza raro trovarlo quindi secondo me devo esplorare per un bel po' Inoltre mi avete fatto notare che questo villager ancora non gli ho dato la nametag Vi avevo detto che gliel'avrei data e sapete che c'è, gliela diamo subito e poi ce ne andiamo Ce ne andiamo un parolone perché c'ho dieci razzi Vabbè ce li facciamo Allora non credo di avere abbastanza smeraldi per una nametag Quindi ce li farmiamo Mi sembra ce ne servono 20 Recuperando un po' di pollo Allora siamo a quota 12 Vedo se ne tengo qualcuno a casa Mi sono rimasti ancora uno stack e mezzo di shroom light Allora i smeraldi se li tengo li dovrei avere o qua se non stanno qua dovrebbero stare qua Se non stanno nemmeno qua vuol dire che non li tengo Due Vabbè dai scambiamo un'altra volta il ferro e ci siamo Volevo rimediare per quanto riguarda i razzi Da quel che vedo non c'ho carta Allora passiamo alla farm di creeper per recuperare ovviamente la gunpowder Non so io me li faccio tutti i razzi per sicurezza E la carta C'abbiamo 54 foglietti Abbiamo quasi 3 stack di razzi Ce ne facciamo un altro po' Non dovrebbe essere troppo un problema Si firework questi qua da uno I piattini Cosa volete? Allora scambiamo di nuovo il ferro Credo che si sia sbloccato il bro Spero di si Grande ferroso E la nametag dove la tenevo? Ah ok sta qua Dovrebbe averla lui Eccola qua Ora mi serve un incudine Come lo chiamiamo? L'autista là? Non lo so Mo' vediamo La scegliamo un nome Lui sta un KFC Vuole il pollo Mi è venuto in mente un nome Apollo Per chi sa la canzongina là Diamo il nome ad Apollo Almeno posso chiudere la macchina Ciao Apollo Piatti sta nametag No non se la prendi raga Apollo Abbiamo Apollo Ora Come esco io? Prendiamo una slab Non queste smooth Ma queste Così chiudiamo almeno qua E voilà Abbiamo chiuso Apollo Ora raga Posso il ferro qua Anche le shroom light Che al momento non mi servono Smeraldi E direi basta Anche le leaves E direi di andare in esplorazione Dove vogliamo andare? Bisogna scegliere un lato L'altra volta Per trovare I ceri Siamo andati lì in fondo Vogliamo andare di là? Non lo so Forse di qua? No di qua si è il ghiaccio Andiamo di qua Però alziamoci Sti Chang Almeno 22 Non lo so raga Io sto andando Intuito Abbiamo acchiappato Una tempesta di neve Non è molto ottimo Comunque mi sono Appena accorto Di non avere un letto Quindi spero Di trovare un villaggio Così mi prendo un bel letto Almeno se è levata la neve Sembra che Non vedo nulla Non so manco Se esiste Un vero e proprio Bioma O vengono posizionati random Non mi sono manco informato Aspettate che mi informo Un attimo Un attimo pausa Si esiste un bioma C'ha tipo Il pavimento Grigio Ho appena visto Delle immagini Eeeh Troviamolo Qua vedo dei funghi Mango un villaggio Poi Oh un villaggio Proprio quello che cercavo Cioè no In realtà cercavo le mangrove Però Ci facciamo una dormita gratis Dammi il tuo letto Buonanotte Che fai Mi sali sopra Eh Sozzone Va recuperiamo il letto Mi sono portato Oddio come lagga No no Non va bene così Ora rispetto a casa Oddio Stiamo Più di 2000 blocchi Da casa Me ne sono appena accorto E ancora non ho trovato nulla Non è che mi rende molto sicuro Ciò Ho trovato Lì un portale Abbiamo delle acace Vediamo che c'è da sto portale Mi danno a Golden Apple Io l'accetto Ma poi i leggings Li lascio qua Non mi interessa Abbiamo un altro villaggio E abbiamo dei fiori rosa Belli sti villaggi Di acacia Questi sono anche i nuovi villaggi Infatti vedete C'è la teragotta colorata Una cassa Nulla di interessante Uno stone cutter Me lo prendo Ok Lì c'è il farmer Belli sti standard Comunque Altra cesta Non c'è nulla Oddio Non ho preso il cibo E allora Prendiamoci qualche panino Perfetto Prendiamo il golem Guarda quante casse Ci sono qui Allora faccio un altro panino Good Non hanno una crafting Loro Scusami Lì c'è quello che scama il ferro Penso Questi villaggi sono nuovi Si vede Che c'è qui Qui c'è un loom E penso che lì Ce l'ha una cassa Per forza Dov'è Eccola E niente Stavo cercando una crafting Ma qua penso che non ce l'hanno Mi faccio un po' di panini E gliela metto io una crafting Allora Non c'è il cibo Non so scordato C'è un po' di panini Dai 24 panini Sono più che sufficienti Continuiamo Continua la nostra esplorazione Comunque qui non vedo nulla Solo acacia Acacia Ma quanto è grande Sto bioma d'acacia comunque Dovrebbe essere la savana questa E ho visto che Nella savana Nel nuovo aggiornamento Uscirà l'armadillo Che tipo serve per dare Le armature al cane Oddio Penso di averle trovate Si Pavimento grigio Questa mi sembra l'immagine C'è anche un deserto Ah fatemi vedere se c'è il cam Il cammello raga Oddio Il cammello Non l'ho mai visto in questa serie Allora Come si raccoglie? Non so queste Queste sono radici Le posso raccogliere anche a mano Prendiamo un'accetta Oddio che è successo? Forse Dov'è il tronco Dov'è il tronco? Scusami Ah ok Ma non è rosso Ah si è rosso E forse ci sta meglio questo All'interno del KFC E questo che cos'è? Mood Vabbè credo sia tipo fango Quelle cose lì Eh Credo sia fango Ma è altissimo Ma Allora Come faccio a farlo revare? Che sono sti cosi? Scusami Propagul Ma Aspetta mi devo informare Propagul Ah ok Eh Ho capito In poche parole Questi sarebbero i nostri sapling Che crescono così Ok ho capito Allora ciò che prende questi Io sto a prendere il tronco Ah me ne prendo un po' Perfetto Abbiamo quattro propaguli Propaguli Non so come si chiamano Ora Direi di tornare a casa E di piazzare questi cartelli Per tornare a casa Eh Eh Siamo più o meno A 3000 blocchi Eh Un po' un lavoraccio Vabbè dai Avviamoci subito Così passa la paura Dobbiamo andare A meno 400 Meno 400 Dovrebbe stare casa Quindi Di là Ok così Dovremmo arrivare a casa Abbastanza veloci Da quando vedo Guarda come andiamo veloci E mangiamo qualche panino Oh ma guarda come è bello Questo verde Guarda Non il mio verde La della taiga Che fa schifo Com'è che Ho dovuto mettere il mos Meno 400 Allora diciamo che con la z Ci siamo Il problema è la x Arriva a meno 400 Sono ancora a 1700 blocchi Villaggio Ma ormai manco li vedo più villaggi Vanno sempre le stesse cose Ragazzi Ci siamo Vedo il nostro albero Ora Quanti tronchi Abbiamo 10 log Vediamo Come sono questi cartelli Prima di tutto E ce li cambiamo Sono 1 2 3 4 Sono 4 cartelli Poi mi serviranno 4 coloranti bianchi E 4 glowing sac Io subito lo farei tutto E dove ce l'ho una crafting Qua sopra Eccola qua Come sono questi tronchi Cioè questo legno Vediamo un po' E devo dire che è abbastanza rosso Non va sul viola Tipo quell'altro legno Quello del nether Crimson Come si chiama Allora abbiamo i nostri cartelli Prendiamo Delle glowing sac E dei white dye Allora 4 white dye Che si fanno col bomial Eccoli qua E le glowing sac Ne tengo precisamente 4 Perfetto Andiamo a cambiare questi cartelli Allora Vediamo prima di tutto Che avevamo scritto pure Qua kfc Ok qua drive Dove sono i miei cartelli Vediamo la differenza E su questo rosso Molto meglio Avevate ragione Molto meglio questo E ci scriveremo Drive Mentre qua Kfc Prendiamo i nostri white dye E poi le glowing sac Perfetto Non è cambiato molto Ma ci piace Ora levo questo Ti voglio sviluppare l'inventario Qua ritira Abbiamo ritira E Qui metto Ordina Abbiamo ritira E ordina Perfetto E anche questo è fatto Ora Arriverei un attimo a casa Possiamo un po' di roba E apriamo il book and quill E vediamo cos'altro dobbiamo fare E ho anche un letto in più Ho riempito la mia cassa del legno Eh Qua va allargato sto magazzino È anche abbastanza in fretta Come faccio? Ok così Ci mettiamo tutto il legno Tutto 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 Pure sti Propaguli Il fango Loro lo mettiamo qua Stamela d'oro Ne abbiamo due Abbiamo un altro stone cutter Che non so se mi servirà qua I crimson qua Li leviamo E Direi di vedere sul nostro book and quill Allora Albero natalizio entro natale Prendiamo il libro Lo possiamo levare Perché è fatto Ora Cosa vogliamo iniziare a fare? Io già ho una mezza idea di quello che dobbiamo fare Ovvero Farmi i guardiani ancora non posso Possiamo rendere mega fornace automatica Al 100% Questo si che posso farlo E le altre cose ci provo un po' di tempo Esatto Allora andremo a fare questo Rendere mega fornace automatica al 100% Ora dormo e vi spiego Cosa intendo per automatica al 100% Allora Automatica al 100% Significa che Non devo mettere nemmeno il carburante E voi dite come faccio a non mettere il carburante? E Allora andremo a fare Visto che mi sono reso conto che il bambù può essere usato come carburante Andremo a fare una semplicissima farm di bambù Però che ne produce tanto Perché deve alimentare tutta la farm E lo andremo a collegare direttamente con un sistema di scarico Al minecart con la cesta che sta qua A questo Quindi diciamo questa sezione verrà tolta Manderemo il cart magari in un posto dietro Dove farà rifornimento di bambù E continua semplicemente Fa l'infinito Noi dobbiamo solo mettere quello che vogliamo cuocere E questo può darmi una grande mano per quanto riguarda le mura Ora Iniziamo col scavarci la zona E inizierei anche col spegnere la farm Magari Sai cosa possiamo fare? Senza sistema di scarico e carico Facciamo quel minecart Che passa direttamente sotto Dove cade il bambù Ecco Possiamo fare così Però il problema è che Quello è un minecart con la cesta A me servirebbe il minecart con l'hopper Devo vedere se si può fare Allora se metto un minecart con l'hopper Dovrebbe funzionare lo stesso Credo Si funziona lo stesso Allora a questo punto facciamo così Prima di tutto scendo sotto E iniziamo a vedere dove fare questa farm Ma penso tipo qua Oppure non so se farla nascosta sotto terra Tipo qua nascosta Secondo me non è male come idea Mi devo ricordare che però Da qualche parte qua sotto Ho la mia farm di lava Quindi devo fare attenzione Io inizierei subito con il levare Questo sistema a sto punto Perché non ci serve più Allora Come l'ho fatto questo? Scusami eh Perché c'è la redstone qua? Allora ok Questo blocco come viene alimentato da me? Tramite questo mi sembra? Esatto Quindi era tramite questa torcia Collegata a questo Quindi basta che faccio così Perfetto Mentre Magari per questa luce Possiamo fare così Almeno comunque funziona Eh ma non così Come faccio che punta verso la luce? Perché si è acceso? Allora un attimo eh Devo vedere una cosa Che c'ho qua dietro innanzitutto? Questa è una scala Ok Questo non funziona più Io però voglio che funzioni Quindi Facciamo così Ho bisogno di più rezzo Ah no basta che faccio così Ma che dico? Che dico? Oddio Così dovrebbe funzionare Perfetto Ora si che possiamo fare qua Questi li posso levare? Si Ok Ci troviamo qua Ora da qua Dobbiamo iniziare a fare la farm Direi di farla là Quindi abbiamo questo che va qua E poi qua Iniziamo a creare tutta la zona Manco si vede Quindi Non dobbiamo manco badare all'estetica Facciamo una cosa così Buttiamo prima tutto giù va Ecco Ho beccato la farm di lava Quella che non volevo beccare Ciò vuol dire Non posso andare tanto in basso qua Però così posso chiudere Stiamo solo attendo Non cade sotto E qualche torcia Non può mai mancare La vorrei fare abbastanza grande Ho bisogno di più rail Andiamo a recuperare le rail E poi vediamo Dovrei averne Un po' qua In questa cassa E zitta un po' mucche Ah comunque Dobbiamo aggiustare anche sta parte Vedo se le tengo a casa Se no mi tocca andare a farm di rail Le mischiamo un po' Facciamo un po' alimentate Un po' classiche Ci devo fare Minecraft con oppe 64 Ah stiamo safe allora Un po' di power red rail Qualche levetta Me la prendo Redstone altrettanto Cosa posso posare Allora questo mi serve Questa scala Perché la tengo Ah perché va sulla torcia Cioè va sulla redstone lamp Qua andremo a fare Un'altra farm di bambù Però diciamo a vista Che si vede Com'è quella che abbiamo fatto Di canne da zucchero Io direi di fare una cosa così Credo che ce la faccia Non penso che ha bisogno Di così tanto bambù alla fine Dai proviamo Mettiamo prima tutte queste Eh ma il problema è che Se io metto qua C'è Non è molto produttiva Pensiamo Se io la faccio così Vuol dire che Mmm Non lo so Qua dovrò mettere un pistone E sopra l'observer Esatto Allora possiamo farne così Ma perfetto Da qua dobbiamo fare Diciamo una serpentina Però devo lasciare L'angolo spazio di ruolo Per il circuito Facciamo da qua va Ah ma io qua posso Continuare però nel muro eh Cioè posso andare dritto Non penso però Il kart Ce la faccia A fare tutto Questo sentiero eh Facciamo un test Se io mando il minecart Dove arriva Ah ma perché così lento Lentissimo eh Facciamo così Aumentiamo il boost Diamo io un po' di boost Oh ma ce la fai a mettere sta leva nell'inventario Ora vediamo No al contrario è andato Parti parti Vai vai Perché non ce la fa Secondo me il problema È che è vuoto Se io ci metto un minecart con hopper Ce la fa Proviamo Se no dobbiamo Modificare un po' Il circuito Se non mi sbaglio Dovrei avere un minecart Da qualche parte Non mi ricordo se lo tengo qua No O qua sotto Ricordo di averne un altro No non ce l'ho Non ce l'ho Pensavo di averne Allora vuol dire che sta qua Oh eccolo Ho bisogno anche però Di un hopper Che non abbiamo Uno due tre Quattro cinque pezzettini E minecart con hopper Ora Provo a metterci qualcosa Dentro E vedo se parte Dimmi che ce la fai Mettiamo che ce la fa Oddio Va velocissimo comunque Abbiamo visto che ce la fa Ed è anche abbastanza veloce Perfetto Perfetto Good Good Quando è bello Quando funziona la roba Nessuno direi di continuare Così Già Quando è Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Facciamo Vai fin qua Fin qua credo che basta Dobbiamo sperare che Arrivi fin qui Io penso di sì Vedendo come è andato Fin a mo Qua ci mette un'alimentata Una leva Accesa E così Vediamo se ce la fa Ok Da con l'anno Dobbiamo vedere da sotto Vediamo Ad andato Penso che ce la fa Il problema Mi sa il ritorno E il ritorno Fa un po' Il ritorno Fa un po' Cagà Il problema fa Tre Forza tre Vediamo se ce la fa Ti ho dato più spinta Ora Non ce la fa Secondo me Qua mi tocca Fa così Oddio Vai vai Così dovrebbe funzionare Ma solo uno Non mi piace così Però In questo modo Credo che ce la faccia E se qua Lo metto in salita No niente Si arrende proprio In questo video Cerchiamo di farlo funzionare Almeno questo All'andata va proprio liscio Ma perché lì si blocca Non vorrei che so sti blocchi Secondo me A sto punto si È colpa loro Vediamo come va veloce Eh si Era colpa di quei blocchi Effettivamente Vabbè Lui ora è partito Continua a fa così Fermati Vabbè Fai quello che ti pare E che dire ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like di supporto E commentate Noi ci becchiamo domani Con il prossimo episodio Della vanilla Da Fredericks è tutto Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti